Oh bella a tutti Regast! E come sapete questo canale, oltre che parlare di Pancroc, è anche un po' il diario della mia vita e quindi come non parlare di una pagina importantissima della mia esistenza come l'arrivo del piccolo cheddar che vedete qua con me oggi è un samoyedo, io e la mia compagna siamo i show money, non piace dire ho un cane e da una decina di giorni mi sta diciamo rivoluzionando l'esistenza avevo avuto un cane quando ero piccolo, quindi erano più che altro i miei genitori che se ne occupavano adesso sembra buono perché era almeno addormentato, ma fidatevi è veramente un grandiscolo quindi sapevo benissimo che sarebbe stato impegnativo avere un cucciolo però ho voluto la barca e adesso eccomi qua Cheddar saluta tutti gli amici del canale figurati se caga a me e dirà che cazzo sta facendo sto imbecille comunque se volete seguire le avventure di Cheddar potete farlo su Instagram seguendo Cheddar the Samoyed dove metto un po' di robe riferite a questo ragazzotto e per quanto riguarda il canale ragazzi non sono assolutamente fermo anzi, è in uscita la prossima settimana una speciale su Gammo, il film che ho fatto in collaborazione con tre miei amici poi farò sto weekend un commento al concerto degli UK Subs anche perché è l'ultima volta che andai a vedere gli UK Subs a Tokyo, vicino Tokyo dovete andare via prima del concerto perché stava arrivando il tifone Agivis e poi chicca che magari l'avevo un po' anticipata voce a qualcuno e che farò la monografia su Penny Bridge Pioneers di Millencore questa è la mia bellissima versione in vinile ti piace o c'è di questo? speriamo di sì e quindi monografia per i vent'anni di Penny Bridge Pioneers il ventennale sarà il 22 febbraio mi pare? sì piccolo, il 22 febbraio il ventennale sarà il 22 febbraio? sì sì, sto diventando scemo questo cane e quindi qualche giorno prima uscirà il mio solito video monografico dove racconto la storia di questo disco e l'importanza che ha avuto sulla community e scena punk rock dell'epoca tutto è un disco che ha un'importanza molto molto rilevante quindi ragazzi miei noi ci vediamo molto molto presto con i video che avranno uscita sono molto molto contento di avervi presentato il piccolo Cheddar fai ciao Cheddar bella, bella rega, ciao bella, bella, bella